ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato all'onjin hydro conquest gmt una primizia questo orologio è appena uscito anzi i più attenti di voi lo avranno visto nell'ultimo video che ho presentato in gioielleria ed è saltato fuori questo l'onjin hydro conquest gmt così dal nulla anzi nel momento in cui abbiamo fatto quel video lì che l'ho pubblicato non era ancora presente sul sito web ufficiale di l'onjin figuriamoci un po che primizia poteva essere al momento non so se è già uscito ed è disponibile sulle fonti ufficiali ma tant'è io l'ho preso l'ho portato a casa per fare una panoramica come dico spesso non è una recensione vera e propria è una panoramica farvi vedere leggere l'orologio assieme a voi e fortunatamente il modello è quello che quadrante nero perché solitamente i primi pezzi che mandano ai negozi sono quelli con i colori un po più particolari avete visto il conquest è arrivato color rame poi verde di questo idro conquest gmt che io sappia ci sono solamente per il momento due colori di quadrante questo qua nero braccialato e uno verde con un cinturino nato che è un po più militare forse anche un pochino più personale con l'identità forse un pochino più più forte però deve piacere il verde perché se no no detto questo qual è il punto il punto è che questo è il nuovo volto del longin idro conquest lo sarà veramente ufficialmente oppure solamente un tentativo una prova un test questo non ci è dato saperlo fatto sta che cambia completamente lo stile dell'idro conquest che come sappiamo è uno dei cavalli di battaglia di longin sono almeno più di dieci anni che è a catalogo in varie in varie fogge infatti ha cambiato spesso aspetto questo idro conquest mi ricordo che io possedevo quello con i numeroni 3 6 9 12 e 6 però precedentemente c'era quello con tutti i numeri arabi lungo il quadrante però precedentemente ancora era di nuovo con i numeroni 12 9 e 6 insomma fino arrivare all'ultimo che è in ceramica completamente con la ghiera in ceramica il quadrante più pulito l'aspetto un pochino più moderno no ed è lì che compare per la prima volta la ghiera la grafica della ghiera che vediamo su questo che è la stessa dell'ultimo modello che è ancora catalogo quindi questo gmt qua non sappiamo se sarà poi anche il volto del idro conquest solo tempo solo solo tempo ce lo dirà farima no farima è simpatico l'orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale chiaramente è concessionario ufficiale del marchio logi quindi se avete bisogno di un orologino come si deve contattateli che fanno sempre un trattamento di favore a voi che state guardando siamo tutti sulla stessa barca ora prima di guardare questo simpatico orologio vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta è il mio brightling cronomat gmt anche questo qua è un gmt come l'orologio che andremo a vedere 40 mm di diametro cassa calibro eta 2893 certificato cosco un simpatico calibro di fornitura che a noi ci piace tanto adesso giriamo la camera guardiamo la panoramica poi vi aspetto qui come al solito per le considerazioni finali partiamo dalle considerazioni relative alle proporzioni derivanti dalle misure diametro cassa 41 mm spessore 13 mm ingombro trasversale al polso 49 mm e interasse ansa da 21 mm iniziamo dal presupposto che si tratta di un diver giusto per non farci influenzare dalla funzione gmt e come tale ha ragione di essere considerato alla luce di ciò ci troviamo di fronte ad un orologio di dimensioni non eccessivamente contenute i 41 mm rientrano nella media generale e per me rappresentano una misura ideale dai 40 ai 42 mm sono adatti ad ogni polso spicca forse il lug to lug piuttosto consistente ma tutto sommato accettabile e ben digerito dal polso ciò che invece occorre rimarcare è il completo cambio di stile rispetto all'idro conquest solo tempo una cassa che assomiglia molto al nuovo conquest piuttosto che al vecchio idro lo si nota soprattutto osservando dall'alto la parte terminale delle anse che va a mettere in evidenza uno stacco netto con il bracciale questo angolo retto connota fortemente l'aspetto generale collocandolo senza ombra di dubbio nel segmento sportivo senza reminescenze vintage ma anche guardandolo lateralmente troviamo dei punti di novità il profilo è essenziale un lato caro lineare che va leggermente piegandosi in corrispondenza delle anse si nota poi la fine spazzolatura opaca che la percorre per tutta la sua lunghezza apprezzo particolarmente questa finitura perché è accompagnata da una lavorazione inusuale l'aspetto è quello di un blocchetto di acciaio tagliato di netto con la parte superiore ed inferiore ad angolo vivo non vi è infatti alcun tipo di smussatura né sulla parte superiore né in quella inferiore talmente netto è il profilo che l'angolo vivo inferiore è percepibile passandoci sopra il polpastrello non è certo tagliente ma lo si sente non so quanto positiva possa essere questa scelta ma presumo che per ottenere questo effetto squadrato nitido fosse necessario realizzarlo in questo modo molto più convenzionale è poi il lato corona laddove scompare la protezione a forma di clessidra lata che viene sostituita da spallette antiurto di foggia molto più comune personalmente apprezzavo l'unicità di quel design anche se portava con sé una certa scomodità di utilizzo quando avevo l'idroconquest era normale avere un callo sul dorso della mano in questo caso dovrebbe essere tutto più confortevole ovviamente è a vite per garantire l'impermeabilità dichiarata di 300 metri così come è a vite anche il fondello che come spesso accade per l'onjin è cieco vi è presente una grafica incisa che richiama il nuovo corso già visto sui modelli spirit ed abbandona quella piacevole lavorazione in rilievo vista sui precedenti mi piace far notare l'esiguo spessore del fondello stesso quasi a filo con la cassa questo perché l'onjin utilizza calibri che vedono come antenato l'eta 28 92 che di per sé è più sottile del 28 24 classico cavallo di battaglia del gruppo eta e non solo infatti il calibro gmt all'interno è niente po po di meno che l'844.4 realizzato appunto da eta per l'onjin lo stesso calibro che viene montato sullo spirit zulu time ma senza la certificazione cosc non comprendo questo minus avrei apprezzato la dicitura cronometer anche su questo orologio aggiungo poi che si tratta di un calibro gmt cosiddetto traveler ossia adatto a chi si muove diffuso infuso la peculiarità è che la lancetta delle ore locali si regola indipendentemente così facendo si può impostare l'ora del paese in cui si arriva senza fermare l'orologio l'altra tipologia è detta collar gmt e prevede che ad essere indipendente sia la lancetta freccia delle 24 ore in quel modo si può impostare l'orario del paese estero con il quale si sta lavorando dall'ufficio senza fermare l'orologio non esiste un modello migliore ma soltanto quello più adatto alle proprie esigenze a livello di caratteristiche abbiamo 25.200 alternanze orarie 21 rubini 65 ore di riserva di carica e spirale in silicio girando l'orologio andiamo ad apprezzare il lato a che presenta anch'esso delle soluzioni stilistiche inedite per la famiglia partiamo dalla ghiera l'inserto è in ceramica antigraffio e la grafica è la stessa degli ultimi modelli usciti da segnalare che a 120 scatti e unidirezionale scelta corretta in quanto le cifre riportate sono finalizzate al tempo di immersione se vi fossero state rappresentate le 24 ore sarebbe stato più corretto che fosse bidirezionale infatti l'orario su scala 24 ore è riportato sul bordo quadrante in colore arancione devo dire che sono piuttosto piccoli e poco leggibili confido nel fatto che un utilizzatore sia in grado di ricordarsi la loro posizione per poi far riferimento agli indici bianchi e qui si apre un altro capitolo il nuovo volto dimentichiamoci completamente la precedente grafica quella con i 6 9 e 12 sovradimensionati qui si è optato per un aspetto meno aggressivo e più canonico alcune soluzioni sanno di già visto ma nel complesso l'insieme regge l'esame intanto il triangolo rovesciato ad ore 12 un classico nei diver va a sostituire il vecchio 12 che giganteggiava in quella parte di quadrante per sostituire il 6 e 9 si è optato per due indici circolari è questa la chiave di lettura di questo bizzarro abbinamento il 6 9 e 12 sono stati sostituiti da tre markers che si differenziano dal resto degli indici infatti lungo il bordo vediamo che gli indici sono del tipo rettangolare niente di particolarmente innovativo ma pur sempre qualcosa di nuovo per la famiglia idroconquest in passato erano presenti bicchierini e stanghette ma erano gli indici circolari a dare l'imprinting al quadrante il gioco sfere è invece l'unico gruppo di elementi a mantenere lo stesso aspetto con quella delle ore da sempre caratterizzata da quel rombo a tre quarti della sua lunghezza chiaramente la qualità delle finiture è all'altezza delle ultime produzioni longin indici applicati in rilievo con cornici metalliche a corollario sfere lucidate a specchio e pulizia di linee in tutti gli accenti presenti va da sé che risulta evidente quanto la leggibilità sia ottimale sia in fase diurna che in assenza di illuminazione esterna il quadrante appare ben leggibile ed anche la sfera secondi appare funzionalmente distinguibile la ghiera presenta il dot luminoso ad ore 12 utile come riferimento così come diventano utili anche i due indici circolari che assieme al triangolo ad ore 12 ci consentono di comprendere l'orientamento del quadrante in qualsiasi situazione occorre poi elogiare il bracciale che rappresenta un grande passo in avanti finalmente un bracciale tutto satinato ed opaco come piace a noi e anche il design cambia rispetto ai precedenti che erano i classici a tre segmenti definibili anche un po' anonimi non che qui si possa gridare all'innovazione stilistica la tipologia di maglie ad h è ben presente ovunque ma perlomeno qualcosa di più moderno e più in linea con l'orologio molto bella la clasp qui eravamo abituati a quella a doppia chiusura a scatto che pareva quasi un po' troppo standard adesso è semplicemente a due pulsanti la finitura è eccellente con quella satinatura fine e la clessidra lata in rilievo inoltre è presente quel bisello che risalta particolarmente in quanto rappresenta assieme ai due pulsantini l'unico punto lucido di tutto l'orologio robusta e solida la cerniera interna che termina poi nella novità più attesa ossia la regolazione fine a scorrimento rapido peccato che abbia un'escursione di solo mezza maglia si poteva fare di meglio tutto perfetto e bracciale no lo spiegherò nelle conclusioni finali bracciale bellissimo perfetto completamente ingegnerizzato e ristilizzato perché però vede come sistema per tenere le maglie fissate tra loro ipina pressione ecco io voglio dire hai fatto tanto cara amica longina per fare un bracciale come si deve un orologio come si deve e poi vai a perderti nell'ultimo dettaglio utile a renderlo perfetto cioè un bel bracciale con le viti questo vuole essere un consiglio se mi ascoltate fate un bracciale sul quale nessuno poi potrà mai più dire niente viti che fissano le maglie e regolazione ingegnerizzata rapida ora questo non deve essere un deal breaking come si dice no un impedimento all'acquisto perché perché tanti fanno così è questo questo mio bright link cronomat gmt che costa 5900 euro di listino anche lui c'ha ipina pressione eco e collarini per tenere le maglie quindi non è che che sull'ongine sia quel gran insomma lo fanno tanti però se vogliamo migliorare io ci tengo l'ongine se vogliamo migliorare ci mettete le viti nessuno può dire niente poi per il resto l'orologio è promosso quale punto debole può avere non me ne viene mettere l'aspetto l'aspetto può piacere o non può piacere cioè gli idro conquest fino ad oggi avevano un'identità propria era veramente un aspetto che aveva una personalità vincente direi no perché avete venduto con questi bellissimi orologini qua il 9 il 12 e il 6 giganti caratterizzavano molto l'orologio così come il quadrante così come le spallette di protezione no però o piaceva o non piaceva perché ragazzi a molti non piaceva assolutamente quel modello lì quella grafica così del quadrante quella corona così sporgente il bracciale in quel modo lì quindi questo restyling strizza l'occhio diciamo un pochino al mainstream ha un aspetto che è più digeribile dalla maggior parte degli appassionati cioè l'unico l'unico punto debole che gli si può imputare è che prende qualche ispirazione qua e là e rimane negli standard è un aspetto canonico che però è bello e piacevole a me piace abbastanza diciamo mi piace non eccessivamente però mi piace punti forti quali sono appunto l'aspetto diciamo così e poi la qualità costruttiva le finiture la il savoir faire che mette sempre non c'è realizzare i segnatempo da lì non si scappa questa cassa così veramente tagliata sembra tagliata come da un blocchetto di ferro tagliata di netto si vedono le striature e poi gli angoli sono netti nitidi è veramente veramente piacevole da vedere se vi capita dal vivo dategli un'occhiata e fate caso a questo a questo dettaglio qua poi ora mi viene in mente che un altro punto che lascia un po così è il fatto che non sia certificato costa il lo spirit zulu time gmt ha lo stesso calibro però certificato costa qua ci hanno messo un calibro lo stesso calibro ma non certificato costa mi piacerebbe che ci fosse uno standard unico no sapere che tutti i calibri di monge sono certificati costa sarebbe già un valore aggiunto per tutta la linea non che uno si uno no così a caso non vorrei che siccome questo qua è un diver i costi di produzione sono più elevati rispetto al gmt spirit e la certificazione costa comportava un aumento di prezzo però secondo me i margini ci sono ragazzi è fare un bel un bel idroconquest gmt certificato costa poi ripeto secondo me tutti i longini per avere un valore aggiunto in più rispetto alla concorrenza dovrebbe avere la certificazione costa fatta così e via poi per il resto orologio promosso io spero di avervi fatto un buon servizio mostrandovi illustrandovi i pregi e i difetti se così si può dire di questo orologio spero vi sia piaciuto spero vi sia piaciuto il video chiaramente vi è piaciuto il presentatore altrimenti non sareste qua e non mi resta quindi che ringraziarvi e ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love